Ciao! È finalmente pronto il video che ho dedicato alla mostra Mark Tobai luce filante che fino al 10 settembre potete andare a vedere in collezione Peggy Guggenheim La mostra in realtà io l'ho già vista per ben due volte perché sono stata in collezione Peggy Guggenheim in occasione dell'inaugurazione insieme alla Vazza che ha organizzato la mostra e questa infatti è la prima di una serie di eventi che la Vazza organizzerà insieme alla collezione Guggenheim a Venezia la seconda volta invece sono tornata per il primo empty che Guggenheim ha organizzato all'interno del suo museo e quindi ho potuto rivedere la mostra quindi questo video è l'insieme, l'assemblaggio dei video che ho realizzato in queste due giornate e quindi vi mostro tutte le opere dell'esposizione in un minuto più o meno grazie a tutti 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 grazie a tutti